E' bella sui ragazzi in questo nuovo video io sono Martina29 e oggi siamo in compagnia di lo referizzeranno a te poxidoni abbiamo fatto il mio amico solo io lo vedo te poxidoni vabbè questo video questa tetra non l'ha messa prima mio amico pure il live che era a 5000 livelli ho provato un bocchettino e poi quindi avviamo ha donato mi ha appena detto che l'aveva fatta anche cup ma io non l'ho visto noi occhi non lo seguo nemmeno cioè voi manco io ma perché non sto più a vedere proprio youtube un colpo si può si che si può e come mai ci sono riuscito appunto si inizia ad arrabbiare si inizia ad arrabbiare no l'ho fatta un po in live nooo c'è un po di tinta guarda 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 mentre non ho prenduto i muci di tavoli 30-25 che ho usato riuscito a suttigare il dogrio no allora non tra yourdo più perché non meなたio è Johns il gioco estáinato questo qua perché toco ma adesso mallo di bucchi saat avanti e finisce no sono caduto solo una volta sono arrivato al peperoncino no ragazzi sono arrivato al peperoncino un'altra volta donato godo se cadi godo se cadi no godo se arrivi al livello 200 io prima ero più avanti di donato ma ho ucciso pure la trappola no ma paolo non può più andare si può entrare vero raga è bruttissimo quando prendi il checkpoint di un altro livello posso già il 1800 dai oh oh donato obbligo verità a che livello sei a che livello sei a che livello sei ok ok ah ciao ecco ecco il livello che prima sono caduto ed è arrivata la mia fine stava succedendo anche adesso stava arrivando al livello di Lorenzo stava arrivando al livello di Lorenzo no dai 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 non ce la dico c'è 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 questo ah a me piace la fruta mangatela a me piace la fruta a me piace la fruta mangiate la fruta è difficile di questa mappa no non è detta perchè sto a livello 3000 se non cadrò mai come accogli aerei quindi mi ho spallerato tutto perchè non si sapevo niente dai no dai cagcaccio dai no dai 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 fame amore Nooo, 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 livello 600, livello 600, livello 600, nooo Nooo, nooo, livello 600, nooo Nooo, no, 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 no Nooo, no, 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 no Ma ecco come io lo so, stavo a vivere prima da due anni che stavo E per esempio, con le temperature in l'aria Io a lei aveva già superato di molto Io stavo, a quella la delle bombe e ombre Io stavo alle bombe e ombre è difficile quello delle ombre o quella delle ombre ma quanto sei nabbo nabbo ragà no però ragà no 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 non c'è ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta il l'ho non mi è coppia come la tigre non è quindi ma 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 non Guarda quello là che devi fare i due salti Io da là sono arrivato al 1600 Io da là Da quel livello sono arrivato al 600 No dai come hai fatto a cittare Ah tu quell'altro non l'avevi ancora fatto Capisci perché Appunto io ho il secondo muoio sono morto Perché la mia vita fa schifo schifo Ma che cosa se l'abbiamo superato brutto noi Come hai fatto Non l'ho scattato No dalbero raga no Come devi tornare in lobby Comunque guarda che lo re Ti avevo lasciato dell'impulso in un livello Non so il quale livello Però il livello che devo vengono a fare mi sa Dimmi come si fa colore delle bombe ombra Facile Facile Allora quando devo tryhardare parli tu Forse No No Sono arrivato al livello Martia Aspetta Martia non hai capito che sia successo Ho lasciato E sono al 1700 Sono al 1700 Vuoi parlare No Martia non hai capito allora mi voglio suicidare mi sa che sono a livello 500 700 600 sono al livello 600 no dai no però raga no quindi raga non è andata alla seguire vabbè è andata alla seguire si chiama accenna frattino abbassadoni quanti iscritti hai io ne ho 59 quale quale non sai fare tu quale livello che non so fare lo sai fare tu le bombe ombre in generale si però noi siamo non telepatici io la monopattina elettrica io la monopattina cioè per far portare il video con il monopattina elettrico dovevo mettere prima la webcam sennò vedono già la mia faccia no si no si no basta per vedere questa termina guardate le mani vabbè io porto direttamente la faccia quando hai scritto mi metterai la webcam una settimana una settimana fa l'ha portata anche calpis la web molti ne ho quasi 100 mila e porto un video a settimana no no io i video li porto raramente perchè non lo faccio sempre live sempre e solo live ma ma tu non ti impegni a portare il video tu fai questi video e basta no non lo so però perchè adesso comunque i video non è che sono tanto belli cioè non è che quando che ne so diventerò più famosa le persone guarderanno di più potrei iniziare a fare mo giusto per capire ma quando si no però mi puoi aspettare eeeeh no perchè no e ci mettere in un'altra solo se mi dici come si fa le bombe ombra perchè adesso è facile nooo nooo sto tornando allo 600 e guarda ecco perchè ok sono arrivato a tantissimo livello però poi aspettami ecco lui no 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 ma io sto tornando però venga che ho cominciato il trailer però che ho cominciato il trailer TH Y E' come si E' come si E' aspetta mi dobbiamo concludere la mappa con una pistola con il figere venga con il figere con il figere con il figere se mi uccidi si è un nabba Mi rimancio tutto quello che ho detto No Tarrate indietro Non era la mia fine Questa che volevo fare Ma zio sto venendo Ma zio sto venendo Non posso venire Ma zio sto venendo Ora giro like, giro visualizzazioni, giro commenti Mi aspetta che ci lascio Mi aspetta che ci lascio Mi aspetta che ci lascio Mi aspetta che ho più follower Ma qua Tu seguimi che io ti ho seguito Non è vero 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 Aspetta Aspetta Ci sta arrivando 100 Laga non so che dire il video finisce qua Oh mi aiuti a completare Stavo costruendo Vieni dietro di me con le Ho compromesso tutto Vabbè raga il video finisce così Colpa delle bombe ombre Non so che dire...